Vado? Zecchin, punto importante senza tanti ricami perché era sicuramente fondamentale uscire con qualcosa in tasca sia per la classifica ma anche per la fiducia visto il momento che insomma è delicato Sì, questo sì, è normale, un punto importante contro un avversario ostico qui è il Trapani che magari si trova anche loro una zona più tranquilla di noi però come potenziale ha un ottimo potenziale e niente, ci portiamo a casa questo punto e andiamo avanti, fa morale, fa tutto come hai detto te per tante vicissitudini quindi portiamo a casa questo punto e cerchiamo di fare i punti pesanti in casa anche se nelle ultime partite abbiamo fatto un po' fatica Quanto è stato importante passare in Danny il primo quarto d'ora? Ci si aspettavano all'arribaggio iniziale del Trapani e così è stato, forse uscire in Danny da quella tempesta lì chiamiamola così Sapevamo che partivano forti, a parte l'attraverso penso l'attraverso dal secondo o terzo minuto che hanno preso poi sì, ho avuto qualche occasione ma non nitida voglio dire e niente quindi abbiamo risposto anche noi con un paio di palle che ha fatto una parata a Gomis e anche un altro tiro mi sembra e niente, siamo questi, facciamo un po' fatica ad andare al tiro però è importante a Trapani portare a casa questo punto Sì anche perché come accennavi adesso in questa risposta avreste dato poi l'impressione di saper crescere cammin facendo per quello che mi riferivo anche a quello, il primo quarto d'ora difensivi perché il Trapani spingì al di là della traversa non pallegò il nitire però difensivi poi avete preso quasi coraggio cammin facendo e avete fatto capire al Trapani che potevate fare male anche voi Stavamo un po' più bassi però eravamo pronti magari a ripartire bene e potevamo farlo meglio come ripeto potevamo andare anche di più al tiro, anch'io personalmente potevo andare più al tiro due o tre volte però quando sei in campo vedi quella giocata lì quindi dopo fai quella però abbastanza bene grazie